Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un brand di prodotti per la pulizia della casa ecologico, in particolare di Kleni. Questo è un brand tedesco che soprattutto nell'ultimo periodo ha girato molto sui vari social, in particolare Instagram. E devo dire che ha anche una confezione abbastanza accattivante, per cui nel lontano maggio mi sono decisa ad acquistare un po' di prodotti. Sono passati un po' di mesi, nel frattempo ho provato insomma quello che ho acquistato e sono pronta a dirvi un po' i miei pareri al riguardo. Prima di incominciare vi ricordo come sempre che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete sostenermi anche offrendomi una simbolica tazza di tè, trovate il link a Ko-fi qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliate e i miei link ad affiliate attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale va a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Ecologici. In che cosa sono ecologici questi prodotti? Innanzitutto dalla confezione. Infatti le bottiglie che vengono proposte sul loro sito sono in plastica riciclata e sono pensate per essere utilizzate all'infinito, ma nel caso voleste disfarvene potete anche riciclarle. Il senso è di avere una bottiglia che ti duri per sempre e poi utilizzare delle ricariche che Kleni propone in formato di pastiglia, quindi una compressa solida, il cui packaging è un incartamento assolutamente riciclabile che viene fatto poi sciogliere in mezzo litro di acqua. Sul sito vengono vendute sia le bottiglie, c'è uno starter pack, che appunto le pastiglie come ricarica. Per l'ordine che ho fatto io ho speso circa 28 euro e ho recuperato lo starter kit più il kit per la pulizia della cucina. Lo starter kit comprendeva tre confezioni così in plastica più due ricariche per molti superfici, quindi abbastanza universale come detergente, due pastiglie per il vetro e due per il bagno. Il kit per la pulizia invece della cucina aveva quattro compresse, due per la pulizia generale delle superfici della cucina e due come detersivo lavapiatti. Io avevo approfittato di una promozione del periodo per cui c'era il 25% di sconto, andando adesso sul sito visto che comunque per i nuovi arrivati fanno il 20%. In ogni caso lo starter kit costa 29,90€, mentre il kit per la pulizia della cucina 7,90€. L'attenzione del brand non sta solo nel prodotto in sé, ma anche nella confezione in cui vi arriva, che è completamente di cartone, non c'è nulla di plastica. E leggevo sul sito che il cartone insomma in cui arriva il pacco è composto da erba da pascolo, che fa ridurre l'acqua usata per la produzione. Oltre a puntare a ridurre le emissioni di CO2 e la plastica, i loro detergenti sono vegani, non sono testati sugli animali, le pastiglie sono biodegradabili senza microplastiche e hanno una forte azione pulente, così è riportato sul sito. Questa è un po' la panoramica generale del brand, di quella che è la sua missione, di come arriva e come sono fatti i loro prodotti. Una delle domande però più frequenti è, ok, io acquisto questo prodotto ma effettivamente mi pulisce? Quanto ne devo utilizzare per pulire determinate superfici o lo sporco rispetto ad altri detergenti? La mia esperienza in questo senso è totalmente positiva. Io ho utilizzato principalmente il detergente per la pulizia della cucina e quello per il bagno. Sono quelli che ho, diciamo, consumato di più in questi mesi e devo dire che mi sono trovata bene. Non ho trovato così tante differenze con i detergenti classici che si possono trovare al supermercato. Nel senso che fanno il loro lavoro, puliscono, hanno anche un gradevole profumo. Il detergente al bagno sa di limone, quello per la cucina invece è il mio preferito perché sa di lilla. Ci sono dei detergenti che stanno anche di vaniglia, eccetera, eccetera, ma è un profumo molto passeggero. Lo sentite quando lo spruzzate e già poi se ne va, ma non è una cosa a cui faccio particolarmente caso io. Una cosa che ho notato che può magari trarre in inganno, soprattutto se si è abituati a quei detergenti, mi viene in mente per la pulizia del bagno che spesso sono schiumogeni, è che questi non fanno schiuma. Quindi potrebbe un po' ingannarvi il fatto che non facciano schiuma e vi possono spingere a utilizzare più prodotto del necessario oppure ad avere la percezione che non puliscano efficacemente. Secondo me questo dipende molto dalle abitudini che abbiamo nella pulizia, nella frequenza e nella quantità di prodotto. Infatti una cosa a cui ho prestato particolarmente attenzione era la quantità di prodotto che stavo utilizzando. A volte ho la percezione che si tende ad utilizzare più prodotto del dovuto, perché utilizzi più prodotto sicuramente pulisci meglio, ma così non è. Molto spesso si tende a sovraccaricare e quindi a sprecare effettivamente del prodotto. Io ho cercato soprattutto ai primi tempi di utilizzare il minimo indispensabile per vedere l'efficacia del prodotto e devo dire che anche col minimo indispensabile, o almeno quello che ho reputato io essere il minimo, puliscono egregiamente. Chiaro è che non sono prodotti specifici, quindi se avete superfici particolari, soprattutto mi viene in mente ad esempio il marmo, quello che vi consiglio io è di informarvi bene sulle caratteristiche e gli ingredienti del prodotto. Sul sito purtroppo non è sempre riportato su quali superfici è più adatto un prodotto e su quali invece è sconsigliato. Quindi se avete delle superfici molto particolari e delicate, prestate attenzione. Un'altra cosa che ho notato è che se avete una superficie molto incrostata, mi viene da pensare ad esempio alle teglie del forno dove può accumularsi dello sporco ostinato, difficilmente con questi prodotti generici si riesce a pulire efficacemente. Però mi rendo conto che quello è un caso magari particolare per la pulizia quotidiana, dello sporco normale che ci può essere in casa, secondo me vanno bene. Passiamo ai costi. Alcuni di voi mi hanno chiesto, vale effettivamente la spesa? Quello che vi posso dire io è che se pensate di utilizzare dei detergenti ecologici per risparmiare rispetto ai prodotti di supermercato, non farete sicuramente un affare. Non sono prodotti per risparmiare nel senso di spese, ma per risparmiare in termini di ambiente. Perché in questo modo riducete la plastica, riducete comunque i rifiuti e impattate meno sull'ambiente. Secondo me se volete risparmiare sul costo effettivo non ha senso acquistare questi prodotti. Ha senso se ci tenete all'ambiente, volete fare qualcosa per avere meno impatto, eccetera. Cosa ne penso quindi in generale di questi prodotti? La mia esperienza è totalmente positiva, io sono molto soddisfatta. Utilizzo ad esempio questo detergente per la pulizia della cucina da maggio, e come vedete ne ho utilizzato poco più della metà, quindi mi stanno durando anche abbastanza. Per la pulizia dello sporco quotidiano e di superfici generiche, non particolarmente sensibili o delicate, è perfetto. Anche per pulire il lavandino della cucina, io ce l'ho in acciaio, va benissimo. Ogni tanto continuo ad utilizzare un prodotto specifico per l'acciaio, giusto per mantenerlo bello lucido. Ma per lo sporco questo basta e avanza. Anche per quanto riguarda la pulizia del bagno, il detergente di Clenny secondo me è sufficiente. E' giusto se c'è un po' di calcare, preferisco utilizzare un prodotto specifico perché lo trovo più efficace. Io continuerò quindi a utilizzarli un po' perché ho delle ricariche comunque da parte, mi sto trovando bene, non sto acquistando nessun altro prodotto. Quei prodotti che vi dicevo specifici, ad esempio per l'acciaio o per il calcare, già li avevo in casa. Quindi una volta ogni tanto li utilizzo, per il resto sempre solo a loro. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscevate questo brand. Ce ne sono diversi simili che si pongono sul mercato come detergenti ecologici e che sfruttano appunto questa, chiamiamola tecnologia della compressa che va fatta sciogliere in acqua e diventa poi detergente. Non so se avete provato altri brand o meno, nel caso riportatemi la vostra esperienza qua sotto, magari può essere utile anche a qualcun altro. Se avete altre domande su questi detergenti, fatemelo sapere. Spero per il resto di esservi stata un po' utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!